Ma come vengono fatti i tatuaggi nei film? Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video e oggi voglio parlarvi di come vengono realizzati i tatuaggi nei vari film che vediamo. C'è un esempio in particolare che posso farvi, ovvero quello di Prison Break, dove il protagonista ha il corpo completamente tatuato. In questa serie il nostro protagonista è Michael Scofield, interpretato da Wentworth Miller. Per interpretare il personaggio di Scofield, Miller si faceva sottoporre a ben 5 ore di trucco, in quanto la parte alta del suo corpo, compreso busto, torace e braccia, erano completamente tatuate. Ma come facevano ad applicare questi tatuaggi sul corpo di Miller? Con tutte quelle ore nelle quali Miller doveva rimanere fermo a farsi tatuare, la produzione decise di ingaggiare degli ex tatuatori professionisti per dare una mano ai make-up artist della serie TV in modo da accelerare questo procedimento. Infatti il nuovo make-up artist ingaggiato era un ex tatuatore che ha in questo modo iniziato a tatuare con tatuaggi temporanei, inizialmente facendo dei disegni per avere delle linee precise e in seguito a fare dei tatuaggi temporanei sul corpo di Miller. Oltre ai tatuaggi temporanei che poi spariscono in pochissimi giorni, c'è un'altra tecnica usata recentemente nel mondo del cinema, anche e soprattutto negli ultimi anni ha preso moltissimo piede, ovvero quella dei tatuaggi effimeri. Questa nuova tecnica è usata moltissimo nel mondo della body art in quanto non porta controindicazioni e soprattutto non è a tempo indeterminato, in quanto questi tatuaggi rimangono sì temporaneamente sul corpo di chi si tatua, ma al massimo nel giro di un anno vanno a scomparire molto lentamente. Quindi si ha quell'effetto di veridicità ricercato nei tatuaggi che se serve magari per girare un film si ha anche più tempo e meno tempo sprecato in make-up e diverse ore di trucco, come nel caso appunto di Miller per quanto riguarda la serie TV Prison Break. Per chi non conoscesse questi tipi di tatuaggi, vengono realizzati con un inchiostro speciale, un inchiostro biodegradabile che va appunto a scomparire nel giro di un anno. Sta prendendo molto moda per questo motivo, in quanto non rimane fisso sul corpo e nel giro di un anno, se si vuole tornare a tatuarsi, non si può fare. Molti attori hanno usato questa tecnica durante le riprese di moltissimi film. Uno fra tutti è sicuramente Ryan Gosling in Drive. Durante le riprese di moltissimi film, diversi sono gli esempi, tra cui appunto Ryan Gosling in Come un Tuono, nel personaggio protagonista, infatti i tatuaggi hanno un'importanza fondamentale. Per questo il buon Gosling ha deciso di utilizzare la tecnica con i tatuaggi effimeri, in modo che nel giro di un anno sarebbero scomparsi e non avrebbe perso troppo tempo per le riprese. Altri attori hanno deciso di usare questa tecnica, a cui Brad Pitt in Ocean's Eleven o anche Sean Penn nel bellissimo film Mystic River. Infine anche lo stesso Gary Oldman nella saga di Harry Potter ha deciso che per il suo Sirius Black il tatuaggio sarebbe stato di importanza fondamentale per terminare le riprese senza sottoporsi a diverse ore di trucco. In questo modo aveva guadagnato moltissimo tempo per girare le scene in cui si vedeva il buon Sirius. Uno degli esempi di tatuaggi al cinema che tutti noi ricordiamo è quello del tatuaggio di Mike Tyson in Una notte da leoni in faccia ad uno dei protagonisti. Qui il tatuaggio è stato sì realizzato con la tecnica del body painting temporaneo ma il tatuaggio era sottoposto a copyright in questo modo la Warner Bros. ha dovuto pagare una multa perché appunto non aveva diritti per esporre quel tatuaggio visto che erano di proprietà appunto di Mike Tyson. Insomma, molte curiosità per quanto riguarda i tatuaggi ma c'è una domanda alla quale possiamo rispondere tranquillamente perché se un attore è stato sottoposto a un tatuaggio effimero quindi della durata di un anno e nel frattempo cambia film o termina le riprese di un determinato film può coprire quel tatuaggio sottoponendosi a ben 5 ore, 6 ore di trucco per coprire quel tatuaggio usando altre tecniche. La tecnica maggiormente usata per coprire i tatuaggi in vista su braccia o sul collo o comunque su una parte che rimane scoperta dai vestiti è quella dell'aerografo. Questa tecnica consiste, come sappiamo, come la vernice e bisogna spruzzare appunto un colorante del stesso colore di pelle di chi si è tatuato in modo da coprire completamente il tatuaggio. Questa dura circa 15 ore quindi il tempo di un attore per girare una determinata scena. Altre tecniche per una rimozione dei tatuaggi sono soprattutto quella dell'utilizzo della CGI o anche di ciprie o trucchi o fondotinta per coprire quella parte del corpo tatuata. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui se vi è piaciuto questo video esplicativo sui tatuaggi nel mondo del cinema e delle serie TV lasciate un commento, mettete il pollicione al video e seguiteci sui nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram per tutte le prossime novità live, video e molto altro. Grazie a tutti da Valerio Perroni e da Ciacchiazione.